Per fare da tramite con le scuole di design di Milano, il nostro ruolo è stato di coinvolgere gli studenti di design del prodotto per elaborare con i scarti industriali raccolti grazie al progetto Life M3P, dei design concept, quindi delle idee, dei suggerimenti su come rifiuti industriali possono essere utilizzati come materia prima e seconda per trovare delle applicazioni innovative. Fino adesso abbiamo raccolto veramente un numero molto vasto di idee, di concept sottoposti, visto che i materiali sono stati veramente molto diversi fra di loro, di conseguenza anche le idee nate spaziano dal pannello decorativo per la parete alla lampada alla borsa utilizzato con magari lastre di gomme oppure altri tipi di materiali. Vorrei sottolineare che questa azione serve soprattutto per dare degli spunti alle aziende e dare dei suggerimenti che effettivamente i scarti industriali non sono da considerare tali, ma nel momento che vengono considerati materia prima e secondaria acquisiscono valore e possono effettivamente dare dei bei risultati. Ci sono vari esempi anche di aziende che hanno realizzato prodotti che hanno un discreto successo commerciale, anzi direi che più che discreto.